Luca Fassio si avvicina alla fotografia per pura passione, quando ad una festa di paese osserva una proiezione di immagini naturalistiche. Da tempo, insieme al padre, effettua escursioni in Valle Orco, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, e quegli scorci meravigliosi lo inducono a fissare quegli attimi di bellezza su di una pellicola. Acquista la sua prima reflex, abbinata ad un'ottica grandangolare per i paesaggi, ed una macro invece per riprendere fiori e farfalle. Iniziano così le sue prime esplorazioni e gli esperimenti fotografici nel mondo della natura. Collabora con la rivista Piemonte Parchi, partecipa a concorsi fotografici locali e nazionali, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Dopo aver lavorato presso diverse aziende, nel 2008 decide di trasformare la sua grande passione per la fotografia in una professione, diventando titolare dello studio fotografico L'Angolo della Foto a Ponte. Recentemente ha pubblicato anche un libro, Ceresole Reale, viaggio fotografico nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con le più belle immagini di paesaggi dell'Alta Valle Orco fino all'alto piano del Nivolè. Grazie a tutti!